Cos'è più tranquilla? Salve, mi chiamo Donna D'Alessandro. Come ero il tuo stato di salute prima di venire dal dottor Caravaggio? Stavo male tutti i giorni. La notte piangevo per i dolori, vomitavo per i grandi dolori di testa, mi stavo deviando completamente. E la mia vita, io vedevo tutto buio, vedevo tutto nero. Venendo da lui, lui mi ha ridato la forza, la forza di andare avanti, mi ha ridato la salute, mi ha ridato il buon umore, l'ottimismo. E una persona che sa il proprio lavoro, lo fa con amore e con competenza. Mi sto commovendo. Qual è stata la tua impressione dopo la prima visita qui nello studio? Ho avuto l'impressione che lui... Io sapevo che il mio problema non l'avrei risolto con le trazioni, con i massaggi. Cioè mi stavo rendendo conto che mi stava capitando qualcosa che con i soliti metodi io non avrei potuto risolvere. Quando capì, e lui mi spiegò con gli aggiustamenti, le sabbussesce come ne chiamava lui, io lo prendevo voleramente in giro, le interferenze mi fece capire il compito del sistema nervoso. E che lui andava ad agire sul sistema nervoso. Per cui equilibrando, togliendo le sublustrazioni, togliendo questi schiacciamenti, tutte le interferenze che impedivano al midoloso di portare tutti i messaggi ai vari ordini. Tra apparenze mi manca un rene, mi manca la coliciste, mi manca tutto quello che c'è. Ho avuto tanti problemi. E in più questa colonna con due spondilosi, sublustrazioni, come si chiama, avevo degli schiacciamenti praticamente, sia a livello cervicale che lombare. Ripeto, io piangevo solo, avevo solo dolori, dolori, dolori. Non ho avuto più dolori, non ho preso più medicina. La notte riuscivo a dormire di più. E' stato un risvegliarsi da un brutto sogno. E' come se io fossi rinata. E l'ho detto a tanti, tanti amici, che mi hanno ringraziato di cuore per tutto quello che il dottor Caravaggio ci ha dato. Lo rimpiangeremo sempre. Quindi la tua impressione dopo il primo aggiustamento? Ho capito che quella era la strada che io avrei dovuto percorrere. E non finirò mai di ringraziarlo. Sono sei anni che lui mi ha ridato, praticamente, che mi ha ridato la vita. Perfetto, grazie. Chiudi, 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 chiudi. Eh beh, certo. Chiudi, 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 chiudi. Chiudi, si vede che sono sincera. Sì, sì. Gliela rimpiangono tutto il bene. Come no? Tutto il bene del mondo. La vedo. Grazie. 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 Grazie.